Buongiorno Presidente Mura, grazie mille per l'ospitalità che ha dato a questo nostro convegno su un progetto Life of Sol che tratta di agricoltura conservativa, soprattutto agricoltura di pianura, ma insomma le connessioni tra la pianura e la collina sono molte, soprattutto nei nostri territori, sono state giornate importanti e di grande interesse e niente, se lei ci vuole così dare un attimo la sua interpretazione, la visione. Sono io che ringrazio voi di aver scelto questa magnifica location in Oltrepo, io non dimentico mai che questa struttura è qua in Oltrepo, ma comunque è un punto di riferimento, è importante che sia un punto di riferimento attraverso Erso e tutto quello che è il discorso dell'agricoltura lombarda, quindi a prescindere da quelli che sono i temi magari più legati alle tematiche di pianura, sicuramente è importante in una struttura prestigiosa come questa poterla riempire anche di contenuti, non è soltanto il contenitore importante, ma anche assolutamente sono fondamentali i contenuti che determinano l'autorevolezza poi di quello che si fa qua dentro. Questi due giorni di confronto a livello internazionale su questi temi sono tutti due giorni veramente importanti sicuramente per Erso, sicuramente per tutti quelli che hanno partecipato, ma anche per ricca gioia che ha avuto questa straordinaria possibilità di potervi ospettare. Grazie mille ancora Presidente, tutti quanti gli intervenuti senza altro hanno molto apprezzato l'ospitalità e anche la bellezza del posto. Il tempo poi ci ha aiutato sicuramente queste giornate di inizio estate, sono sicuramente molto belle per quello che è il contesto che abbiamo qua intorno. Grazie. Grazie ancora.